bella a tutti qua è the real goal e oggi sono di nuovo su amnesia mi dispiace tanto che è da una settimana che un pubblico video ma tra le feste tutte queste cose capodanno natale cazzate varie e l'inizio della scuola non ho avuto abbastanza tempo ma oggi perché raga no niente ma oggi sono di nuovo qui con voi su questo amnesia dell'ultimo episodio se non sbaglio si è visto il mostro che è entrato in quella camera e niente cioè continuiamo con la nostra storia vai non mi ricordo ok ecco così il volume va bene io cos'è che ho pezzo di la macchina blablabla ma qui ho trovato tutto io cioè non c'era niente quello giusto posso prendere il vestito boh mi sembra che lagga un po' il gioco ma non fa niente ah guarda un po' qua non c'è niente qua vero ok quindi adesso ho una chiave possiamo continuare no niente ovviamente si blocca ogni volta che devo cambiare posto oh cazzo qua che si faccia girare le cose ecco non capisco qual è il davanti ah ecco boh vero però non abbiamo un segno dove è che si deve andare ma adesso la macchina ho fatto poi ti ho cosa no non ci vado andiamo a una sola macchina che perchè diventa bianco tutto non diventa bianco non diventa bianco non c'è niente non c'è niente da usare un parasol nel deserto come succede è imperativo al vostro survival ma sembra ridicoloso la bianco va meno da usare mi assurro basta c'è nessuno bene non ho chiaro scoperto cosa sono cioè si so cosa sono ma non so come si rilevano quelle cose gialle e non ce l'ho chiaro io ma sbaglio o lagga un po' boh mi sembra tanto fluido boh fa niente c'è ansmiva ansima ok si f cos'è questo? si può fare niente qua si può fare niente qua qui bigliettino come ho dato un'altra volta ci ho amato il video se volete leggere ah 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 eh si questo cos'è? ah ah una scatola con oh aspetta ah ecco anche qui ce n'è una che occhio va perché non si muove? ah ci andiamo qua ci andiamo qua cosa ho fatto? come faccio di sapere cosa devo fare? aspetta non ci avevo dove è n? non mi aspetta no allora no no falco falco le cose la censura no per esperimento letter istruzione per la censura ha otto sopra e otto sotto quindi devo fare otto più otto cioè senza otto giù e otto su quindi facciamo uno cazzo non mi guarda più allora uno sei uno quindi sei 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 otto è giusto? che c'è qua? qua sotto cosa c'è? ma non mi piacerebbe che ci fosse il mostro che pare perché siamo così flusso cazzo faccio sapere io ecco notai che ci sono solo due sbagli di ricami immagazzinato e la scienziata di scattare solo quello davanti del genere blablabla ah solo questo qua cosa c'è? leggete voi stoppate e leggete neanche qua neanche qua anche qui allora allora dove 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 mette i bastoni ci sarà scritto? no cazzo dove? blablabla ahah fino a quando siete tutte le ciclo forse devo pure funzioni impostate sbagliare di angolare bla 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 ah ma forse ho capito cos'è? circolare quinto metterlo qui giusto? eh boh io non mi lascio lì quindi devo avere anche le altre cose cosa c'è qua? ah fermate voi il coso qui qui ah basta meno vale cos'è questo? ah mancano delle cose oh ah mancano delle cose di cazzo prende qualcosa questo cos'è? questo cos'è? ah do allora questa sarà una di quelle cose la che giro quindi e vatti quindi mettiamola qua e che accoglie accoglie ecco bene ma questa cosa nera una pala poche gocci d'olio usiamo una scatola qualcosa più bello chiamarlo tinderbox che si chiama così nell'inglese nell'inglese in inglese posso prenderlo un po' giralo ah non ci capisco niente quando devo girare queste cose ecco cosa fai così? ma come più mi sei infilato dentro? dentro fa un culo prende la mano allora mi sa che devo buttare il carbone oh yeah bene poi mi mancano altre due cose che girano uno visto che era qui eccolo dovrebbe entrare qui no qui mi manca uno no ci diamo la luce qua ops ok andiamo Dove può essere l'ultimo? Ah, eccola qua Andiamo Facciamo anche questa Ok, quindi Facciamo così, cosa succede? E più lavoro per funzionare Cazzo significa? Ah, no Oh, più carbone, oh, che palle Oprà No Che schifo che fai, ma... Come che si chiama? Daniel Manuel Non mi ricordo, come si chiama? Non so neanche il mio nome No Ecco Ups E devo attivare questo adesso, no? Il meccanale ha bisogno... Puttana! Ha bisogno di più qualcosa per lavorare Cosa? Cosa che manca qui? Questo cos'è? Cazzo! No, è scaduto Cosa è che... Ho bisogno di più lavoro Ah, che palle Ah, che palle Ah, ho sc... Non ho più... Oh, che palle Ho usato tutto l'olio Dove... Dove ci sono gli alti bastoncini? Dove amateli? Cazzo, sonno Puttana, è già passato un quarto d'ora Cos'è sto sangue? Ah, minchia... Ho passato un po' veloce il tempo Giocando qua Il magazzino Ok, io penso che vi lascio qua dentro del magazzino No, sono un po' lento a giocare, scusatemi E niente, vi lascio qua dentro Nel magazzino Allentate nel magazzino Qui è The Real Girl Nella livecam di Amnesia Bella, bella